Brad Whale, concorrente di 29 anni di D'Ilorno Deal, English version di Affari Tuoi, ha vinto solo 7 euro nel corso della puntata che lo ha visto partecipare al programma e tentare la fortuna per vincere il bottino di centinaia di, migliaia di euro. Lo scorso 30 novembre, durante la messa in onda della trasmissione un'altra concorrente, Rochelle Brown, ha creato una pagina di raccolta fondi per il giovane affetto da una malattia neurologica degenerativa che influisce sul funzionamento muscolare. In segno di solidarietà, il pubblico ha contribuito alla donazione, raggiungendo in poco tempo l'importo di quasi 100.000 euro, cifra che ha commosso e lusingato l'ex concorrente. Lo sfortunato concorrente è scoppiato in lacrime, quando il conduttore del quiz show gli ha rivelato l'importo donatogli dal pubblico. Commosso e sopraffatto dall'emozione ha dichiarato, grazie mille, mi avete fatto piangere, è davvero troppo quello che avete fatto per me, mi sento così in colpa per tutti i soldi che avete raccolto, e che sto ricevendo.